Gestire al meglio potenziali situazioni pericolose e garantire la sicurezza degli agenti approda anche a Bari, così come in altre 17 città italiane, il Taser. Parliamo di un dispositivo ad impulsi elettrici che proietta due elettrodi contro la persona non collaborativa allo scopo di mobilizzarla in stato di agitazione. Vi è un primo avvertimento dell'utilizzo dell'arma che può consistere anche in un avvertimento visivo in quanto c'è la possibilità di attivare una scarica elettrica senza far partire gli elettrodi. Poi successivamente se la persona continua ad insistere nel suo atteggiamento di pericolo per l'incolumità sia degli operatori che propria che anche degli altri cittadini, chiaramente avviene lo scatto con l'emissione dei due elettrodi. L'arma è a disposizione ed utilizzabile già dalle scorse ore, ma quali sarebbero gli aspetti favorevoli? A favore dell'impiego del Taser c'è sicuramente una maggiore tutela dell'operatore su strada, in quanto ovviamente parliamo di una less lethal weapon, quindi un'arma non letale, che è in grado sicuramente di dissuadere il soggetto dal protrarre la condotta aggressiva nei confronti degli operatori.